presentato a parigi il percorso ufficiale dell'edizione 109 del tour de france in programma dal primo al 24 luglio 2022 e cerimonia al palazzo dei congressi con numerosi campioni del ciclismo tre settimane per un tracciato che collegherà copenhagen a parigi interessati anche belgio svizia da 3.328 chilometri per sei tappe di montagna e cinque arrivi in salita con il traguardo a parigi sugli champs et desis presentato anche il tour de france femmes 2022 1029 chilometri al via da parigi il 24 luglio e chiusura il 31 luglio dopo otto tappe che impegneranno le cicliste con traguardo in borgogna